Siamo gente dei valori, siamo gente dei valori e allora uno di noi ogni anno è una bella abitudine perché donne, motori, gnocca e maginoni, lavoro e ostentazione positiva per carità, sempre e in quantità ma non ci dimentichiamo che siamo gente dei valori e allora il sorriso di Joe è un evento benefico di beneficenza che viene organizzato ogni anno in memoria a Ravenna, all'Oberix, il 28 giugno mi sembra di quest'anno in memoria di Gionata Mignozzi, giocatore di Ravenna, viene organizzata questo evento giornata di sport di aggregazione, di amicizia e di raccolta per beneficenza e allora uno di noi, il pagano nazionale ogni anno anche Alberto, l'Aguilani nazionale, sempre lo sostenuto del progetto e quest'anno in virtù della nuova amicizia ho chiesto al Miccoli nazionale che non solo ha dato qualcosa ma me l'ha portata, è venuto in ufficio il Miccoli nazionale perché ha voluto portare personalmente, ma che fai fumi Fabri? ammassa Fabri, ammassa stipri di offre, ha Fabri i capelli Miccoli nazionale, uno di noi, subito portata la maglietta da capitano, autografata con tanto di fascia con tanto di fascia, quindi non solo in asta, la maglietta di Fabrizio Fabri, potresti smettere, fumà? allora Fabrizio è la persona che stimo e che amo, girate e fai capire che sei Fabrizio Gio Frecchio, girati, animale! Fabrizio, ma scherzate perché questo lo sai, schiavo della cazzata grazie Fabrizio, che non solo hai portato la maglietta e la fascia da capitano due cose da mettere in asta, bastava e avanzava, il tuo cuore però è grande firmata? una bussa del saletto vabbè la bussa del saletto era per contenere quelle cose, essi mettevano l'asta alla bussa ooooooooh stupendi, stupendi mercurial mercurial by Miccoli nazionale and il pallone ora Frank fa 500 palleggi con questo pallone, svalutandone completamente e vanificandone il significato grazie Fabrizio questo è Fabrizio Miccoli punto scarpini maglia fascia da capitano e pallone Frank non li vendiamo a 1000 euro e si rimettiamo in tasca come hai proposto li mandiamo in asta per il sorriso di Gio a Ravenna perché siamo gente dei valori e Fabrizio c'ha il cuore grande riusciamo a ballare con gli scarpini Zio Frank? te chiestu bassa te chiestu bassa viva la vita tutta la vita bella per te dai e giornata ermiglia Frank ammazza che stop ha fatto stop de gobba viva ah ah Grazie a tutti.